ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei fare un video motivazionale per tutti quelli che vogliono aumentare la produttività vi indicherò infatti le sette principali abitudini dei ricchi quelle che proprio i ricchi hanno radicate nel loro comportamento ma prima di iniziare come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti ma iniziamo immediatamente con l'argomento di oggi per cercare di capire esattamente che cos'è che fanno i ricchi e perché diventano ricchi allora ragazzi innanzitutto vorrei darvi un breve accenno di quello che è la storia dai dall'inizio dei tempi dal tempo greco infatti già 2400 anni fa circa il filosofo greco aristotele si rese conto dell'incredibile potenza delle abitudini nasciamo più o meno patologie e alterazioni permettendo con la stessa struttura psicofisica basale a tutti sono donati quattro arti un busto con tanta roba dentro e un viso e una testa con all'interno la famosa e dal potenziale infinito materia grigia chiamata comunemente cervello per quanto se ne voglia dire e per cosa si voglia credere al di là di particolari doti sovraumane dovute a particolarità genetiche nel 99 per cento dei casi nasciamo tutti uguali ciò che poi fa la vera differenza tra ottimi risultati e scarsi risultati sono le nostre inclinazioni l'ambiente in cui cresciamo e le conseguenti piccole scelte e azioni quotidiane ripetute nel tempo quindi ragazzi già dal tempo dei greci e poi dei romani e comunque in tutti i periodi storici e in tutte le posizioni geografiche del mondo sempre questo è stato ciò che hanno fatto i ricchi ecco di seguito infatti le sette abitudini principali dei ricchi che adesso andremo ad analizzare insieme al primo posto ragazzi come potete vedere c'è svegliarsi presto infatti questa è forse l'abitudine più riscontrata svegliarsi presto significa essere padroni della propria giornata fin dall'inizio significa poter allungare il tempo e concentrarsi nel periodo di massima produttività e tranquillità sulle cose che realmente contano lavorare ad un progetto parallelo fare attività fisica meditare leggere rispondere alle mail pianificare meglio la giornata secondo le ultime ricerche la migliore routine sarebbe quella di andare a letto alle ore 22 o massimo 23 a seconda delle ore di sonno che il singolo individuo necessita per poi svegliarsi alle 6 di mattina non è raro però trovare tra le persone di successo orari addirittura antecedenti alle ore 6 infatti marchionne il ceo della fiat si svegliava ad esempio alle ore 4 per iniziare a svegliarti presto inizia a impostare giorno dopo giorno la sveglia 10 15 minuti indietro in qualche giorno avrai raggiunto il tuo obiettivo è sicuramente i vantaggi li potrai capire da solo saranno notevoli fin da subito se hai problemi con la sveglia prova a riporla in un posto lontano dal letto cosicché sarai costretto ad alzarti per spegnere l'allarme secondo punto ragazzi è quello di fare esercizio fisico anche i latini ancora prima i greci erano giunti alla conclusione che per avere un cervello che funzioni come si deve è necessario stare bene anche fisicamente corpo e mente sono legatissimi praticamente un tutt'uno vorresti avere più energia durante il giorno sentirti generalmente meglio con un umore potenziato sentirti più lucido durante tutte le operazioni quotidiane ovviamente non sto dicendo che devi assumere medicinali o droghe se proprio non fai alcuna attività fisica prova semplicemente a correre oppure a camminare a passo spedito per circa 20 30 minuti tutti i giorni o 50 60 minuti per tre volte alla settimana cammina cammina o corri chiaramente in modo da poter parlare ma non da poter cantare quindi il passo deve essere sostenuto con questo piccolo trucchetto infatti troverai la giusta percentuale di sforzo a cui poter arrivare senza esagerare e cadere in eccessiva stanchezza postuma entrando anche successivamente in una condizione di stanchezza cronica la maggior parte delle persone di successo infatti fa attività fisica regolarmente e mangia bene per aumentare il tono dell'umore gestire lo stress e potenziare la chiarezza mentale ovviamente a questo deve essere associata anche una dieta corretta infatti non bisogna mangiare più del dovuto ma solo per il necessario che ci serve per affrontare la giornata terzo punto ragazzi molto importante è quello di leggere tutti i milionari del mondo leggono si documentano sono affamati di conoscenza non smettono mai di imparare infatti bastano 30 minuti al giorno di lettura sforzati per iniziare di leggere almeno 30 minuti al giorno tutti i giorni qualunque cosa possa essere una un qualcosa che puoi imparare basta leggere leggere infatti non solo mantiene sempre alta l'attenzione e il focus sui nostri obiettivi le nostre ambizioni e i traguardi prefissati ma è anche una scorciatoia per raggiungerli più velocemente e facilmente leggere un buon libro infatti significa sostanzialmente fare tesoro di esperienza altrui in materia riassunta comoda e senza alcun costo o perdita ovviamente ragazzi vi ricordo sempre che leggere vi apre la mente infatti ci sono tantissimi libri che ogni imprenditore o aspirante tale manager oppure uno startupper o comunque anche qualcuno che vuole raggiungere degli obiettivi nella vita dovrebbe leggere infatti potete trovare tantissimi libri motivazionali facendo anche una semplice ricerca online quarto punto ragazzi anch'esso molto importante imparare nuove skill infatti ognuno è un genio ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la vita a credersi stupido questa è una frase di albert einstein analogo al ragionamento del leggere le persone di successo dedicano sempre un po del loro tempo ad apprendere e praticare nuove abilità a potenziare i loro punti deboli qualunque essi siano dedicano un po del loro tempo e si cimentano nel far proprie nuove abilità ad esempio imparare una nuova lingua suonare uno strumento programmare scrivere meglio disegnare parlare in pubblico comunicare eccetera imparare nuove cose e far proprie nuove abilità aumenta la plasticità sinaptica sviluppa la prontezza mentale aumenta l'autostima e amplifica l'immaginazione oltre ovviamente a farti vedere sempre nuove strade percorribili e nuove possibili soluzioni nell'affrontare problemi quotidiani e lavorativi quinto punto ragazzi lavorare in team infatti si dice che noi siamo la media delle cinque persone persone che frequentiamo di più nulla di più vero infatti il nostro organismo per natura tende ad adattarsi all'ambiente che lo circonda stare a stretto contatto con persone simili a chi vorremmo diventare che hanno raggiunto e raggiungono ripetutamente obiettivi che noi vorremmo raggiungere è la strategia più veloce e indolore per avere successo non esiste metodo più rapido e naturale di far proprie determinate metodologie di pensiero e determinate abitudini il nostro cervello sarà spinto inconsciamente ad adattarsi all'ambiente che lo circonda tenderà ad uniformarsi infatti bisogna spendere almeno due o tre ore a settimana per fare network con persone migliori di te nel campo o nel settore in cui vuoi raggiungere i tuoi obiettivi principali puoi anche frequentare corsi eventi partecipare a blog e forum fai domande sempre intelligenti e pertinenti chiaramente questo è un po di un potentissimo circuito che ti può portare sulla luna dal punto di vista delle conoscenze sesta sesto a sesta abitudine dei ricchi è quella di meditare infatti ragazzi personalmente lo ritengo giusto infatti è sempre più importante che ciascuno di noi dedichi una parte del tempo anche 5-10 minuti al giorno alla meditazione su questo punto non mi soffermo tanto proprio perché oscio per esempio vi ricordo che ha detto la meditazione uno stato naturale dell'essere uno stato che abbiamo perduto e ritrovarlo è la gioia più grande della vita settimo ed ultimo punto ragazzi porsi obiettivi e darsi delle scadenze infatti napoleon hill diceva un obiettivo è semplicemente un sogno con una data di scadenza le persone di successo i milionari hanno sempre ben chiari i propri obiettivi sanno esattamente cosa vogliono e concentrano tutte le loro energie nel raggiungimento di quel qualcosa ovviamente bisogna capire con precisione quantificata e temporale che cosa vogliamo non basta dire voglio essere ricco sarebbe efficace invece scrivere su un bel foglio di carta voglio possedere un milione di euro entro il 31 dicembre 2021 facendo nel modo migliore che ci possa essere la vostra cosa principale quello che sapete fare meglio chiaramente questi dati devono essere precisi e devono poter essere visualizzati in ogni dettaglio comprensivi del processo per l'ottenimento dello stesso bene ragazzi allora per oggi il video è terminato io vi chiedo a questo punto di lasciare un bel commento a questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale e fate l'iscrizione attivando la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video ciao a tutti